Ehi a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono FlashTV e in questo video ragazzi andremo a fare, incominciare il torneo della Champions League di FIFA Non ho portato l'ultimo video perché non avevo voglia L'ultimo l'ho fatto, ora devo fare questi due shorts Perché io ogni settimana faccio un video e degli shorts Allora, abbiamo finito Ci scegliamo la squadra Mi sa che mi prende un bel Barcellona Sostituisci squadra Sì, ci prendiamo un bel Barcellona E seleziona avanti E si va a giocare, signor Prendiamo l'ultima modifica E ci va bene, ok Signori, nuova Champions Nuovissima Champions Ora aspettate, alzo un pochino l'audio Mi metto qua le cuffie Ah, forse sente Ok, credo che si senta Se incomincia la prima partita di tutte Io contro il PSB Non so che squadra sia Bene così E ci vediamo in partita Ok, ragazzi, incominciamo Sono migliorato Sono migliorato Se non ci fanno subito gol Vuol dire che sono migliorato Se guarda, io non la conosco Non so neanche se è forte E non parlerò Fidatevi Secondo me, come tutte le squadre del torneo che ho giocato Che sono fortissime Ma a tiro fanno schifo Da maggior parte della squadra Io l'ho vista così Poi, forse ho sbagliato Però Che sono anche veloce Tutto Però A tiro fanno schifo Secondo me è così Poi potrebbero essere anche la scuola più forte del mondo E io non lo so Però Per ora, secondo me, è scarsa Cioè, non l'ho mai vista Non vuol dire che ora è scarsa Perché Non l'ho mai vista io Perché Che comunque potrebbe essere anche la scuola più forte del mondo Allora, io gioco col 19 Perché si vede Perché C'ho Messi E Al Barcellona Quindi Ok, potrebbe essere Direte Eh, ma potrebbe essere anche il 17 Il 18 Eh, no Non c'è il 19 Devo ancora comprarmi il 22 Cosa che Farò Subito Appena Ho l'occasione Subito Perché Non Posso aspettare Ce l'ha Già il mio cugino L'ho provata È una figata Assurda Proviamo a mettere dentro Il primo Il primo Goal E si va dentro Signori Al ventesimo Arturo Arturo No, mi sto confondendo con Vidal Incredibile Messi, Messi Vai Voglio fare un sacco di gol Per sta Champions Sta Champions Vi avverto La Tutti gli episodi Tutte Le partite Saranno episodi Perché non voglio Lasciarvi al Come posso dire All'oscuro Di niente Cioè Tutte le partite Che vedrete Saranno sui video Poi Mi sento Perché C'era Sta Champions Che non la finivo Dagli anni Dal Forse Il 2019 Sarà stato E Quindi Mi ero Mi sono detto Basta Devo fare Il video Della Champions La finisco E L'ho finita L'ho vinta E Basta Seduto Wow Uomo 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 Sulla per Domani C'è a scuola Ma va bene Così Perché Tanto Ci sono Quattro Ore di Matematica Sì Almeno Italiano Quindi Siamo A Messi Veramente Bello Jesus is back Ora Ora faccio Tutti Qualcuno Gesù Eccolo Jesus is back Tu 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 No No Mi ha fatto Con Gesù Ho imparato a fare A togliere A togliere la palla A contrastare Con B Così Guarda Oppure Il pallonetto Ah ragazzi La partita dura poco Quattro minuti Perché Poi se no Il video viene troppo lungo Quattro ancora c'è Molto Tempo E Ci sono Tanti Ma Tanti Goal Da Fare E Ci potrebbero Fare Goal Anche Loro In questo Momento La Prostima Champions La Gara Faccia Un Campione Eccolo Uh Oh Oh No Piché Che Stai Fa Ok Manca Messi Mi hanno Chi So Guarda Piché Uoh No Io volevo Fa Fida Con Piché Mi fa Rire Quando Tirano Perché Sono Anche Forti Cioè Non è Vero Però Mi fa Rire Quando Tirano Perché Quando Tutte Le cose Prendo La Palla Te Chiudono Che Sono Le Basi Quindi Non è Manco Scarso E Mi Fare Vero Che Poi Tirano Delle Delle Patate Incredibile Banane C'hanno Il piede Banane Questi Cioè Guarda Li Lascio Tirare Ah Forse Non li Devo Lasci Tirare Ma Siete Sicuri Che Trovo Per Secondo Vabbè Oh Come Mi Pare Mi Ho Fatto Fa Goal Mi Interessa Lo Rifaccio Subito Con Arturo Guarda 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 Rigore Rigorone 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 E Come Mi 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 Sbaglio no vieni qua vieni qua uomo dai mesi vai al parco mesi è tipo un calcio d'angolo nasario allora ah non ho chiesto il like per questo video 5 like era anche bello il tiro in fuori che tirano steppete che incredibili no vabbè faccio meglio qua anzi ora ti faccio entrare e tra poco mettiamo dembele proprio per dire siamo cattivi bello ma sono anche bravi ma mi fa ridere no ok non mi sei fatto male no no ora non ho abdul non so chi ne ha abdul dai in car messi anche la messi mesi no me l'ha buttato giù all'ultima star c'è il babo bastard dai vidal com'è che mi corri? che sei entrato ora? grande suorez boom ah giordi giordi non mi fosti io qua i giordi e entra qua messi dai mandiamoli al parco quando presto e finisce l'abbiamo vinto vediamo dove siamo se siamo primi in classifica anche se allora non siamo non ci abbiamo nessuno in classifica dove è messi? messi è decimo che ha fatto un gol e a guiero ha fatto tanti gol siamo secondi nella classifica e ci sta e ragazzi tutto per un prossimo video ciao